Sentieri inizia il 20 presso il comune di Amelia, il festival si articola all'interno della città in vari siti, alcuni storici, in alcuni bar e in alcune case signorili che ci sono state messe a disposizione gentilmente da chi in questo momento le gestisce. Sono tutti luoghi più o meno lasciati a loro stessi. Il tema di quest'anno è ACGT, è adenina, citosina, guanina e timina. Ci è piaciuto pensare non più A come albero, come ci hanno evidentemente insegnato a scuola giustamente, ma A come adenina, C non più come casa ma come citosina e così dicendo, non per sovvertire le regole scolastiche ma semplicemente per avere una coscienza della nostra natura. Chi siamo, dove siamo, dove ci troviamo, perché in questo periodo storico credo che sia assolutamente necessario riflettere su questa tipologia di argomenti. Gli artisti invitati a partecipare a questa edizione, che è la seconda, appartengono a varie nazionalità, provengono dalla Cina, dall'Italia, dall'Inghilterra, dalla Germania e soprattutto appartengono a varie generazioni, proprio in virtù di questo tema, cioè del trasferire notizia, di trasferire cultura. Nel DNA si trasferiscono informazioni ed è esattamente quello che accade nel mondo della cultura. C'è un collaborare con un solo corpo per realizzare una sola opera, infatti Sentieri è pensata come un'opera, una grande opera che mette insieme varie menti.